Martino Cazzola, l'operaio di 54 anni di Cosio Valtellino, è stato trovato senza vita dopo essere scomparso venerdì mattina, uscito per una passeggiata, non è rientrato per pranzo come atteso dalla madre anziana che viveva con lui. Le ricerche hanno individuato il segnale del suo cellulare il giorno successivo e oggi il suo corpo è stato scoperto lungo un corso d'acqua confermando la sua morte per annegamento. Cazzola, fermo al lavoro a causa di un infortunio non grave, si prendeva cura quotidianamente della madre. Aveva deciso di fare una passeggiata tra i boschi della Valtellina quel venerdì, ma non è mai tornato. Le indagini hanno iniziato a dare risultati il 2 dicembre quando l'elicottero della Guardia di Finanza ha individuato il segnale del cellulare. Nelle vicinanze i soccorritori hanno trovato il giaccone che indossava. La comunità locale è scossa da questa tragedia.